Antonino e chiede come mai niente cam sulla stasera stasera secondo me te guardavi la live di chi è che ha la cam sulla tastiera fissa non so fissa non lo so fissa in realtà io che quasi nessuno eh no no tipo io ogni tanto la mettevo e la toglievo ma sì ma non fissa no no per niente mi creava troppo input non aveva senza a parte che anche perché fissa cioè cosa fai guardano per terra cioè non gli puoi neanche fare un discorso serio in live e no no cosa è successo pizza ti prego non morire ti prego non morire c'è uno da me però ho tirato la pizza per terra la pizza è diventata tipo in miniatura ed è sparita così ma non ci voglio chiarire ok l'ho trovato un'altra se io trovo il pompa sto messo bene ma che a me solo il pompa manca arrivo da te stanno dentro al cavo io andrei subito ok a me solo il pompa serve se lo trovo ok c'è il tattico va bene stanno facendo il robo andiamo 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 ce li mangiamo questi poi eccolo 90 parto ok in un secondo ma giocatore di classe royale normale deve far vedere le manacce ma poi ci sta se non è la face cam magari usi l'entame ci sta sì piuttosto che non avere niente meglio di nulla dai sì secondo me sento gente craucciata comunque anche io sento dei passi 100 per cento e mi hanno sparato invece eccoli il botte il botte il no 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 sono i player ora li bombiamo ora li bombiamo è sceso 1 di lì sono entrami lì a ver che si fa sono loschi sono italiani centocento 52 link ti giuro una mira assurda questo ne è uno dietro raccato una scelta quello lima sottilancio su di lui è nato morto mi ha tirato una volta in quanto di mattina ti misa si si provenire da te allora faccio un box fini l'hanno killato è un impulso usciamo addosso 90 impulsi naig 150 l'ho boxato l'ho mattato l'ho mattato l'ho mattato l'ho mattato bravissio godo mamma mia in box in box brava si ha attaccato una bomba morto 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 molto bene si gode si gode ma tu hai il microfono so per il monitor vero sì perché mi piace che ti sente da dio c'è sebbene ce l'hai distante di senza ci sente veramente bene io ho provato a farlo ma si sente troppo male a veramente ti giuro senti tutta la tastiera da qualsiasi cosa hai non so come ho fatto sinceramente però mi son messo lì pur di settarlo senza senza avercelo troppo vicino perché a me da un gran fastidio l'asta del microfono un botto lo so infatti non non ce l'ho più l'asta c'è sta scorreggina cioè non sono sentito una scorreggina ma hanno cambiato tutti i suoni ah forse credo che si dici sì tipo quando tipo di livella o cambi forse perché fa un rumore diverso sì 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 è vero provo a laserarne uno sento due doppio di blocca caccato anche dal like ci sparano ok mi vado con una shock mi faccio una sola prima lo vedo vado il tipo il fire 130 l'ho noccato minchia va ha trovato il lama questo non sono io non sono io dove cazzo è andato eccolo qua sotto ok l'ho trovato questa è messa come nella bomba il foretto si senti in aria sopra sì 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 sono sopra di noi li vedo quasi white uno morto 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 e ce n'è un altro sai ok questo è morto subito il let nico cook ok ok sento passi sento passi qua dentro ha messo la pizza questo è un pizzaiolo sopra di te a qualche parte sì poi sotto allora forse qua nel bunker da me 100% arrivo è qua dentro secondo me invece no che sai come c***o sei ragazzi anche perché ha messo la pizza cioè l'ho sentito proprio no allora è sopra si è spostato il b****ardo eh mi sa anche a me comunque qualcuno si stava curando qua in zona eh sono ancora lo spas verde io sono vergognoso eh non vedo nessuno no nemmeno in andiamo verso la zona si 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 va andiamo ah c'è uno qua in mezzo ok e questo si può prendere arriva il mate 120 ok letteralmente bombato eh è morto no 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 ancora qui è morto uno l'altro è sempre dietro la colonna in teoria vado di impulsa 110 sticcata che verazzo mi ha attaccato la bomba beh solo meritava dai sinceramente sì era anche poco forse oddio ma le mie pizze sono qui tieni ok grazie ma l'avevi presa te per sbaglio eh non l'avevi lasciata per terra e poi l'ho presa io ah ok sta una bella duo pales te lo conosci pales eh aiuto crackato ok nella bomba salgo la bomba ti entra nel box morto devo un attimo devo un attimo arriva il rio pizzo 150 andre rombato ti giuro abbiamo beccato penso metà italiani non sto scherzando infatti infatti c'è un po' di bordello arrivo ne ho due addosso nei due sì prova di impostare via ti ho cato no cato no cato no cato bravissimo non è il mio box è un problema è un problema è un problema qua nato ti giro l'ho vista bruttissima bruttissimi comunque il tac a me non piace no neanche a me neanche a me neanche a me c'è lo spazio leva molto di più comunque io non ho cura è proprio niente qua ci sono barini ti aspetto arrivo ok siamo nudi così proprio eh sì qua c'è un medmissio prendo no prendilo te sì sì ho letteralmente due meddiki tu medmist ok mi riprendo oh questa è buona non so se porta il mio lancio granate oddio forse sì dai sì sì per sicurezza hai dei razzetti eh te li lascio qua grazie io uso il pad comunque vado a vedere un po' sull'isola nessuno che sono i ragazzi oddio non ci sono resti potrebbero essere qua magari c'è un fight assurdo sai che però non li ho visti ci ho guardato bene ok ok provo a guardare meglio per me sono andati a brutal ormai sì o dici che sono boxati no sembrava no qua sembra ad arresto dai non possono stare boxati no infatti andiamo a brutal allora se sono sopra il k2 guarda non mi esprimo il monte ciliad a quest'ora vedere una roba del genere non si può dai me lo fanno a volte non ti credere infatti sono lì no dai non si può no andiamo ma è proprio di sopra sì sì sono sopra sopra ok io se scendamazza mi tirano le bombe di sotto morto 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 110 arrivo pizzone madonna vuol pompa scarico ho rischiato un bot volano 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 sentinario provo a killarne uno distrutto 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 craccato guardati per fire vai 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 watch it mio watch it mio te lo giuro ok geno morto troppo forti ragazzi troppo forti facile facile sincero sono tutti i belli soliti qua sì nulla da dire nulla da dire hai preso lo spazio non le pizze sì vabbè ragazzi quelli erano dettagli tecnici facile facile così alla prima a Grazie.